Ben trovati, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con un caso di cronaca piuttosto noto. Dopo aver accertato che il cadavere ritrovato sabato pomeriggio in un terreno tra Isola d'Asti e Costigliore d'Asti appartiene a Elena Ceste, la donna scomparsa il 24 gennaio scorso, l'attenzione è ora puntata a capire come sia morta. Una storia, quella della Ceste, ricca di misteri e di interrogativi ancora senza risposta. Ma sentiamo da Katie Porcello. Come è morta Elena Ceste? È questo l'interrogativo che ora si pongono i carabinieri di Asti che sotto il coordinamento del tenente colonnello Fabio Federici e del capo della procura stanno svolgendo le indagini dopo che il DNA ha confermato che il cadavere ritrovato sabato pomeriggio a soli un paio di chilometri dall'abitazione della donna a Costigliore d'Asti appartiene proprio a lei. Si tratta di suicidio o di morte violenta? E se si è suicidata perché lo ha fatto? Oppure se è stata uccisa chi è l'assassino? Dal comando di Asti le bocche sono cucite e al momento nessuno è iscritto sul registro degli indagati. Quello che trapela è solo che il forte stato di decomposizione del cadavere fa pensare che la Ceste potrebbe essere morta lo stesso giorno della sua scomparsa. Ma come mai allora quei resti non sono stati rinvenuti dalle numerose squadre di ricerca che hanno battuto a tappeto quella zona? Gli interrogativi che ruotano attorno a questo caso sono molti e tutti al momento senza risposta. Persino sulla posizione del cadavere i dubbi sono tanti. Chi lo ha visto ha commentato che sembrava appoggiato al terreno ma allora quel corpo si trovava lì da gennaio o qualcuno lo ha portato successivamente magari dopo aver ucciso la donna? L'acqua che scorre in quel canale così come ha confermato il sindaco di Costigliole non è mai alta neppure durante i periodi di piena per cui appare improbabile l'ipotesi che la Ceste abbia voluto uccidersi annegando. Nel corso di questi nove mesi si è scandagliato sulla sua vita, si è parlato di un uomo con il quale avrebbe tradito il marito, del suo ingresso in una setta religiosa per redimersi da quel peccato. Si è parlato del gesto compiuto la mattina della scomparsa di lasciare in giardino gli abiti che indossava, quasi come se avesse voluto purificarsi da quel tradimento. Rito non inusuale proprio tra gli adepti di alcune sette. Ed è anche su quegli abiti rinvenuti dal marito che per primo ha dato la notizia della scomparsa della donna ai carabinieri che ruota un altro dei misteri. Come mai erano puliti e asciutti, visto che il 24 gennaio aveva nevicato? Li ho caricati in auto, avrebbe detto l'uomo ai carabinieri. Faceva freddo, avevo il riscaldamento acceso e gli indumenti si sono asciugati durante il tragitto. Ma chi è Michele Buoninconti, il marito della vittima? Vigile del fuoco ad Alba, è stato al centro della sparizione della moglie e nonostante nessun indizio ufficiale a riguardo alla sua persona, è il primo, come avviene in questi casi, ad essere additato come qualcuno che non ha detto fino in fondo la verità. Agli inquirenti ha rivelato che la moglie da alcune settimane era depressa, facendo emergere l'ipotesi che forse la ceste era minacciata da alcuni uomini per quel suo tradimento. Voci non confermate. In un'intercettazione ambientale segnalata dal settimanale giallo, l'uomo, mentre si trovava in auto in compagnia dei figli, avrebbe suggerito loro di mentire sul suo matrimonio, chiedendo di dire agli inquirenti che mamma e papà non erano soliti litigare e che quella mattina del 24 gennaio tutta la famiglia si era ritrovata attorno al tavolo per fare colazione. Ma anche qui le voci non sono confermate. C'è poi un altro fatto, anch'esso senza riscontro, e questa volta farlo trappelare, sono i parenti della ceste, secondo i quali il profilo Facebook della donna sarebbe stato modificato. Sulla sua pagina, infatti, nelle informazioni personali, non compare più la voce casalinga, moglie e mamma, ma solo il suo status di donna sposata. Se è vero, chi avrebbe fatto quella modifica, visto che il computer è in mano degli inquirenti dal giorno della sua scomparsa? Chi poteva accedere al suo profilo? Chi aveva la password? Tanti interrogativi, tanti misteri, ad avvolgere il tragico epilogo di una semplice donna di paese di soli 37 anni, madre di quattro figli, che in una fredda mattina di gennaio ha lasciato la sua casa per ricomparire nove mesi dopo in un ammasso di ossa lungo un canale di scolo tra isola e costigliole d'asti, con un solo piccolo frammento molle del polpaccio che ha permesso di scoprire che quel cadavere apperteneva a lei, ovvero aveva il nome di Elena Ceste. Adesso è una buona notizia per molti. La tesoreria dello Stato ha inviato 52 milioni di euro al Comune di Alessandria perché possa pagare i creditori che aspettano il saldo delle loro fatture oramai da parecchi anni. Anche il Comune di Alessandria però, secondo il sindaco Rita Rossa, rientra tra quelli che avanzano parte di questi soldi. Serviranno ovviamente a pagare qualche azienda partecipata, creditrice, che aspetta da molto tempo che è sull'orlo del fallimento. Ma sentiamo di più in questo servizio. I fornitori e quindi i creditori del Comune di Alessandria, che da anni aspettano il pagamento delle loro fatture, possono finalmente sperare che questa sia la volta buona. È infatti arrivata dalla tesoreria dello Stato la considerevole somma di 52 milioni di euro. Si tratta di un'anticipazione che sarà a disposizione dei commissari straordinari del dissesto, ovvero l'OSLO, Organismo Straordinario di Liquidazione, e serviranno appunto a pagare i debiti del dissesto finanziario della città, ovvero quelli che il Comune di Alessandria aveva fino al 2011. Il sindaco Rita Rossa ha dichiarato che la somma di 52 milioni è conseguenza della richiesta a suo tempo avanzata di finanziamento della massa passiva, cioè le fatture ammesse al pagamento, che ammontano a 77 milioni e 689 mila euro. Il sindaco Rita Rossa ha ancora dichiarato che la somma ottenuta consente di risolvere in misura significativa il problema di coloro che sono in attesa di vedersi saldare i crediti antecedenti al 31 dicembre 2011. Il sindaco Rossa aggiunge, «Ho portato all'attenzione dei commissari la necessità che anche il Comune, creditore di oltre 32 milioni di euro nei confronti del dissesto, possa ricevere una parte della somma. Questa entrata di cassa, dice, ci consentirebbe non solo di pagare i debiti, ma anche di accelerare gli investimenti in opere che contribuiranno al rilancio della città». Il sindaco Rossa conclude dicendo, «La mia soddisfazione nasce anche dal fatto che la strada della correttezza contabile e del risanamento comincia a dare i suoi frutti e che le ragioni del Comune di Alessandria sono state recepite anche dallo Stato centrale». Adesso ritorniamo alla cronaca. Nell'ambito di una vasta operazione coordinata condotta a livello nazionale dalla Guardia di Finanza, è stato scoperto che 325 immigrati beneficiavano di un assegno sociale dell'Inps che da qualche anno non avevano più diritto perché sarebbero ritornati nel loro paese di origine. L'ammontare di questa truffa è di centinaia di migliaia di euro. Le fiamme gialle hanno accertato che gli stranieri non avevano segnalato all'Inps il loro ritorno in patria, continuando quindi a percepire l'assegno sociale che veniva versato sui loro conti correnti. Tra le persone denunciate è anche un albanese che era residente in Alessandria e il quale continuava ad incassare un compenso di 1.100 euro al mese perché invalido e un lituano di Valenza che da anni non abitava più però a Valenza e che percepiva messiamente quasi 500 euro. L'accusa nei confronti dei due è di frodi comunitarie e truffa all'Inps. Sempre in tema di Guardia di Finanza, la provincia di Alessandria, tra quelle del Piemonte, è al primo posto per la presenza e la vendita di merce contraffatta. Nonostante i continui sequestri di prodotti provenienti dall'est asiatico con il marchio CE falso, il danno subito dalle aziende locali è ingente. L'ultimo sequestro è avvenuto la parte della Guardia di Finanza a Serra Valle Scrive. Vediamo nel servizio di Franco Capone. La provincia di Alessandria è una delle realtà più colpite dalla contraffazione di ogni tipo di merce posta in vendita in tutto il Piemonte. Non rilema in un rapporto l'Ufficio Studi Nazionali della Compartigianato affermando che il fenomeno ha provocato in cinque anni la chiusura di 7.000 imprese ed un danno a livello nazionale di 500 milioni di euro. Tra le province del Piemonte, che subiscono maggiormente l'irruzione sul mercato dei prodotti contraffatti, al primo posto con il 30,6% c'è Alessandria. Subito dopo con il 27,4% Biella. I settori più esposti alla contraffazione sono quelli del tessile, abbigliamento, calzature, occhiali, cosmetici e giocattoli che rappresentano l'89,2% del valore delle merci sequestrate tra il 2008 e il 2013. In questi dieci mesi del 2014 sono stati numerosi sequesti di merce contraffatta sequestrata dalla Guardia di Finanza di Alessandria, oltre 60.000 prodotti di ogni genere. Il mese scorso, sollevando fra l'altro la curiosità sulla merce contraffatta, le Piamme Gialle hanno sequestrato oltre un migliaio di boccettine di vari profumi per un valore di oltre 20.000 euro trovate in un deposito di acquiterme. Infine, proprio nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Novi Liquori, in collaborazione con l'Ufficio delle Dogane di Alessandria, ha rinvenuto in un magazzino doganale di Serravalle e Scrivia oltre 14.000 prodotti elettrici contraffatti per un valore di 150.000 euro. I prodotti sequestrati, carica batterie universali per telefoni cellulari, realizzati con materiali di dubbia qualità recalde il marchio contraffatto della CE, sono risultati fra l'altro altamente pericolosi per l'incolumità fisica. Ma non solo. La merce avrebbe potuto causare cortici cui di che genere sviluppano incendi ed esplosioni. L'indagine inoltre ha portato alla identifiazione di una donna di origine asiatica denunciata alla Procura della Repubblica di Alessandria per frode in commercio. È stata condannata la banda che con l'esplosivo faceva saltare le casse continue dei supermercati, agì in Mezzitalia e anche in provincia di Alessandria. Ma sentiamo di più da Emma Camagno. Si muovevano abilmente di notte su auto rubate o ricettate, portando con sé una miscela di esplosivo e una miccia, e facevano saltare casse continue di supermercati autogreen. Non sempre i colpi sono andati a buon fine, ma il bottino realizzato in Mezzitalia fra gennaio e ottobre 2013 ha sfiorato i 290.000 euro in contanti e 40.000 euro in assegni. In provincia di Alessandria, fra gennaio e maggio, hanno preso di mira le casse continue dell'UNES di Arquatascrivi e Basaluzzo, Penni di Alessandria e Nove, Gullit di Ovada, Bennett di Belforte, Doc Market di Acqui. Bottino, parecchie migliaia di euro. Sono gli albanesi Kresnik Oti, Oswald Marku, Lulzim Michi, Artan Pietri e Sander Marjornai, tutti giovanissimi, bloccati dalla polizia e dalla postrada di Alessandria al termine dell'operazione Gas Bomber, così denominata proprio per l'uso delle miscele utilizzate. Accusati di associazione a delinquere e furti, attuati o tentati, sono stati processati dal gruppo Enrico Bertolotto. Uno, Lulzmin, Michi, ha patteggiato 5 anni. Gli altri hanno affrontato il giudizio abbreviato. A Oti sono stati inflitti 7 anni e 4 mesi. 5 anni e 4 mesi a Marco, 5 anni e 10 mesi a Pietri, 5 anni e 8 mesi a Marjornai. Pene leggermente superiori sono state proposte dal Pubblico Ministero. Sul caso particolare di Cronaca, un automobilista alla vista di un posto di blocco aveva cambiato direzione di marcia. I carabinieri della compagnia di Novi Ligure, però insospettiti, lo hanno inseguito, hanno ritrovato però l'auto, una Citroen, ancora con il motore acceso, ma non più l'autista. L'auto era in sosta davanti alla stazione ferroviaria di Stazzano. Da un controllo effettuato all'interno del bagagliaio della vettura, i militari hanno rinvenuto due borsoni sportivi contenenti 55 kg di hashish confezionati in tavolette da 100 grammi ciascuna. Dalla vendita gli spacciatori avrebbero potuto ricavare circa 500 mila euro. Sono in corso indagini per identificare gli occupanti dell'auto. Gli agenti della Polizia Postale di Alessandria, in collaborazione con gli agenti del commissariato di Casale Moferrato, hanno sventato un tentativo di truffa online ai danni della FEBA, l'associazione familiari e vittime dell'amianto, che ha sede a Casale Moferrato. La Polposta, che avrebbe individuato una centinaia di indirizzi informatici legati alla FEBA, con i quali i truffatori chiedevano, aducendo motivazioni diverse, come lo smarrimento del portafoglio o altro, di avere contratto il male provocato dall'amianto e d'altro ancora. Il messaggio online indicava anche il modo come inviare i soldi, promettendo, tra l'altro, di rimborsarli appena possibile. Il messaggio ha commentato Bruno Pesce, componente dell'associazione vittime dell'amianto, è falso ed ha affermato che sia trattato di un tentativo di truffa che ha creato gravi disagi. Ammonterebbe circa 40 mila euro il bottino del furto, compiuto da una banda di ladri che nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha rubato il bancomat installato all'interno del centro commerciale e gli archi della COP di Alessandria. Sul furto sono in corso le indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Alessandria. I banditi, dopo aver scardinato dalla parete forziere, lo hanno caricato su un furgone che qualcuno ha visto partire dopo il colpo a tutta velocità. Per la polizia, dopo aver visionato i filmati registrati dal circuito televisivo interno, ci sarebbero utili indizi per arrivare ai ladri. Torniamo a parlare di alluvione. A Novi Ligure si lavora per quantificare i danni provocati dall'alluvione della scorsa settimana e il Comune invita i cittadini a consegnare le schede di ricognizione per conoscere l'entità dei danni provocati dall'ondata di maltempo che solo per la viabilità, sappiamo, ha provocato danni per oltre 20 milioni di euro. Ma ce ne parla Enrico Mariano. La Giunta Comunale di Novi Ligure ha invitato i cittadini a consegnare entro il 15 novembre le schede di ricognizione dei danni subiti da privati e aziende in occasione dell'evento alluvionale del 13 ottobre scorso. In questo modo sarà possibile avere un quadro più preciso della montare dei danni stessi. I modelli possono essere ritirati presso il comando della Polizia Municipale di Via Verdi 37, lo sportello del cittadino di Via Giacometti 22, l'ufficio urbanistica di Via Gramsci 11 o scaricati dal sito internet del comune stesso. In questa fase non è necessario presentare perizie. In ogni caso la Giunta consiglia di allegare alla richiesta quanta più documentazione possibile, anche con il supporto di fotografie dei beni colpiti. L'iniziativa è prevista nell'ambito della dichiarazione di stato di calamità già richiesta dal Presidente della Regione Sergio Chiamparino. In città, solo per risistemare la viabilità, ha affermato il Sindaco Muliere, saranno necessarie molte risorse. Da una prima stima i danni ammontano a circa 2 milioni e 300 mila euro. Inoltre, cambiando argomento, nell'ottica di valorizzare l'esperienza dei tanti volontari, soprattutto giovani, che hanno dato una mano nei momenti difficili passati in questi giorni, nel corso dell'ultima riunione del Consiglio Comunale, tutti i consiglieri hanno sottolineato positivamente l'immediata risposta di questi numerosi giovani che spontaneamente si sono messi a disposizione per liberare dal fango strade ed edifici. A questo proposito, l'assessore alla pubblica istruzione Cecilia Bergaglio ha proposto di riconoscere agli studenti dei crediti scolastici. La proposta è già stata accolta favorevolmente dai dirigenti delle varie scuole ed ora si valuterà il modo per renderla operativa. Taglio del nastro stamane a Torino a Lingotto per la decima edizione del Salone del Gusto e di Terra Madre. Al ministro Martina, il patrono di Slow Food, Carlin Petrini, ha avanzato sei richieste. L'ideatore della manifestazione dedicata al cibo di qualità ha poi criticato l'Expo di Milano. Ma sentiamo di più nel servizio di Carla Ruffino. Code alle casse ancora prima che i cancelli del Lingotto aprissero i battenti e folla fra gli stand è iniziata sotto i migliori auspici la decima edizione del Salone del Gusto e di Terra Madre nonostante l'assenza del premier Renzi. Al suo posto il ministro dell'agricoltura, Maurizio Martina, intervenuto alla conferenza inaugurale insieme al sindaco di Torino, Piero Fastino, all'assessore regionale alla cultura, Antonella Parigi e naturalmente al patron di Slow Food, Carlin Petrini. L'ideatore della rassegna del cibo di qualità, che quest'anno riunisce 1200 espositori e 4000 delegati delle comunità del cibo di Terra Madre, ha rivolto all'esecutivo sei proposte concrete la difesa del suolo agricolo, il credito per i giovani contadini, l'investimento nelle nuove tecnologie e nella formazione, la semplificazione burocratica. Sfide che il ministro Martina si è detto disposta ad accogliere in toto, partendo in particolare da due temi. Raccolgo sicuramente la sfida di portare a compimento la legge per il contenimento del consumo di suolo entro fine anno. Abbiamo scritto alla Camera chiedendo che venga calendarizzata e discussa definitivamente perché pensiamo che sia un provvedimento che l'Italia attende da troppo tempo. Raccolgo la sfida per il credito, per il credito agevolato all'impresa agricola e dico anche che proprio in queste ore noi abbiamo presentato un piano di investimenti 2015-2017 2 miliardi di euro a disposizione delle piccole e medie imprese agricole. Sono soldi che già ci sono, non vanno cercati altrove, sono leve pubbliche e private che si generano da qui ai prossimi due anni. Ci sono otto strumenti dedicati per sostenere la piccola e media impresa agricola. Divergenti invece le posizioni di ministro e fondatori di Slow Food sull'Expo di Milano. In questo momento la manifestazione ha attaccato Petrini, non ha ancora un'anima. Se se la canta e se la suona sulla straordinaria potenza dell'Italia non va bene, non passeremo alla storia, ci vuole un po' di umiltà. Dell'esposizione milanese ha parlato anche il sindaco di Torino, Piero Fassino, ricordando invece come non a caso sia dedicata al cibo, diventato un grande tema dell'agenda mondiale proprio grazie all'intuizione di Petrini. Noi oggi abbiamo un pensiero sul cibo che è molto diverso dal pensiero sul cibo che avevamo prima, che tutto questo avvenisse. Quell'intuizione è diventata movimento, perché Slow Food è un grande movimento di scala mondiale e che ha fatto diventare il cibo e la nutrizione un grande tema dell'agenda culturale, politica e sociale del mondo. Siamo arrivati in fondo al nostro telegiornale, tra poco ci sarà la sigla e poi subito dopo lo spazio dedicato allo sport e nella pagina sportiva di oggi vi parleremo di un'iniziativa che unisce il mondo dello sport estremo a quello della solidarietà. L'alessandrino Matteo Gatto è il protagonista di U-Aid Race, un'avventura in mountain bike in Asia, tra le vette più alte del mondo, per promuovere una raccolta di fondi necessari alla costruzione di un ambulatorio per i vaccini in un ospedale africano. Il progetto, organizzato dall'associazione U-Aid, è stato patrocinato anche dalla città di Alessandria. Il servizio sarà curato da Gianluca Ardiani e poi come sempre dopo andrà in onda il meteo e le notizie utili. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima edizione. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima.